Sì. Vuoi restare qua? E' un po' che non è vero. Oggi sta pure Rita con noi, oi? C'è una mano a friggere il mister Jones. Sì, sì, sì. Il filo. Rita! Mantenetevi i figli questo. Perché gli tocca a figli una roba se la dàveri con me. E beh, uno può portare un grado al cadina da passare per qualche guai. Che ha migliore che non male essere. Ti sento. Hanno picchiato la sangue davanti alla bambina per lo sciocco con una palladichio. Ma Rita che colpa ne ha? Suo padre adesso è in galera. Noi dobbiamo proteggere i bambini. E lì alla Marseria non ci sono più le condizioni di sicurezza. La responsabilità me la assumo io. Guarda che quella da qua dentro se ne deve andare. Fuori di qui per lei. C'è solo il mondo da cui sta cercando di scappare. Questa è gente che capisce solo le magne di Forti, Giovanni. Ma questa sembra parte di malamento. È logico. Noi non facciamo differenze fra di loro. Questo è un posto per i bambini. Per tutti i bambini. Noi noi. Ciao. Grazie.